diario di un esercista satana testimonia la realtà dell'eucarestia un genere molto difficile convincere una persona completamente posseduta ad andare a messa ogni volta che incoraggiamo la persona il demonio prova una repulsione soprannaturale per l'eucarestia anche perché è stato così non potevamo farla partecipare senza trascinarla praticamente in chiesa e poi farla stare seduta per tutta la messa è stato difficile se non impossibile dopo mesi di esorcismi stava molto meglio ma farla entrare in chiesa era ancora una grande lotta finalmente siamo riusciti a programmare una messa privata per lei suo padre e suo zio per tre giorni prima della messa in programma la possessione si è manifestata quasi costantemente i demoni sapevano cosa era stato pianificato e sono diventati aggressivi hanno manipolato lei e tutti gli altri cercando di sabotare l'evento ma niente è stato cambiato quando venne il giorno la sua famiglia non così gentilmente la letteralmente trascinata nella cappella era seduta tra due grandi parenti della sua famiglia che le tenevano al suo posto poi è iniziata la santa messa mentre la messa procedeva continuava a urlare mi stai uccidendo ha detto che le faceva male lo stomaco e aveva la nausea ha vomitato molte volte avevamo un secchio nelle vicinanze e lei ha rimesso un po di schiuma bianca nel secchio quando il vangelo è stato letto ha reagito violentemente devo ammettere che è stato difficile per me concentrarmi poi è arrivato il momento della comunione dopo molte suppliche e infine un comando di suo padre aprì la bocca mentre l'esorcista si avvicinava con la sacra ostia lei urlò mi stai bruciando l'esorcista le ha messo l'ospite divino Gesù sacramentato in bocca si è dibattuta molto e ha cercato di sputarlo ma suo padre le ha tenuto la bocca chiusa più tardi ha detto che l'ostia sapeva di cenere terminata la messa è tornata in se stessa ha detto che i demoni erano scomparsi almeno temporaneamente ed era in pace rideva scherzava e sorrideva satana involontariamente ha testimoniato tutto ciò che è santo si contorce quando viene sperso con acqua santa rabbrividisce alla vista di un crocifisso benedetto e grida di dolore quando viene a contatto con l'eucarestia noi da parte nostra testimoniamo la santità dell'eucarestia ci inginocchiamo davanti all'eucarestia presente nel tabernacolo adoriamo la presenza viva e reale di Gesù durante l'adorazione eucaristica riceviamo il santo corpo e sangue di Gesù nella messa con grande riverenza come scrisse santo maso d'aquino come siamo benedetti a ricevere il pane degli angeli